Il termine condizione può avere vari significati, perché nel linguaggio volgare per condizione si intende generalmente una qualsiasi clausola, nel linguaggio giuridico invece francesizzante per condizione si intende un qualsiasi evento da cui dipende una determinata conseguenza, mentre nel linguaggio giuridico francesizzante si intende per condizione quell'evento futuro incerto da cui le parti fanno dipendere un determinato effetto del contratto. Naturalmente, fin tanto che l'evento futuro è incerto ma comunque possibile, si dice che la condizione è pendente. Se invece l'evento diventa impossibile, la condizione è mancata o se l'evento si avvera, lo si verifica, la condizione si avvera. Naturalmente la condizione esalta quella che è l'autonomia contrattuale delle parti, anche se talvolta può essere introdotta nel contratto in via di integrazione dalla legge. In questi casi abbiamo la cosiddetta condizio iuris, la quale viene comunque riconosciuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nonostante si tratti di un elemento che dall'esterno si introduce nelle negoziazioni e quindi in quello che è il prodotto dell'attività negoziale delle parti. Perché? Perché attraverso la condizione iuris o condizione legale, si giustificano gli obblighi che legano le parti quando l'attività negoziale è perfezionata e si aspetta il verificarsi o il mancare della condizione e poi giustifica l'eventuale trazione degli eventi a una nota anteriore rispetto a quella del verificarsi della condizione legale. E comunque la dottrina è sempre molto chiara nel chiarire che la condizione legale è un qualcosa di esterno che si aggiunge rispetto all'attività negoziale delle parti, ossia rispetto al contratto. L'avverarsi della condizione e il suo venir meno hanno ovviamente efficacia erga omnes, il che significa che l'acquidente subisce il rischio dell'inefficacia del contratto per mancato avverarsi della condizione, non tanto in virtù dell'effetto retroattivo di quest'ultima, quanto piuttosto proprio per avere contratto in presenza di una condizione. L'avverarsi o il venir meno della condizione ha effetto retroattivo e l'articolo 1361 fa comunque salvi gli atti di amministrazione compiuti e l'acquisto dei frutti maturati in pendenza della condizione da parte del titolare dell'esercizio del diritto, questo comunque per rispettare quella che è la volontà delle parti, anche se in realtà questi problemi spesso non si verranno nemmeno a porre, perché per esempio nel caso della scommessa il pagamento si avrà solo quando la condizione si sarà già avverata. Peraltro il venir meno dell'evento futuro incerto da cui dipende la condizione rende inefficace il contratto e la definizione di contratto inefficace è quella di un contratto che non produce effetti giuridici, ma questa definizione finisce per appiattirsi su quella di nullità del contratto, quindi in realtà non si capisce quale sia l'elemento di discrimine. In generale allora bisognerebbe dire che la condizione riguarda solamente quelle disposizioni che ad essa sono ricollegate, cioè quelle disposizioni del contratto che dipendono dalla condizione e quindi se la condizione viene meno, cioè non si avvera, queste disposizioni perderanno di efficacia, non invece la parte restante del contratto, per esempio per quanto riguarda gli effetti o gli aspetti strumentali di protezione o le obbligazioni risarcitorie. È possibile poi avere una cosiddetta condizione unilaterale, ossia i fatti previsti dalla legge solitamente producono i loro effetti in modo automatico, cioè al verificarsi proprio degli eventi cui la norma giuridica ricollega tali effetti e lo stesso meccanismo dovrebbe applicarsi anche al caso della condizione introdotto dalle parti nel contratto. Perché? Perché quando il legislatore prevede determinati effetti giuridici al verificarsi di un determinato evento, egli vuole attribuire un diritto soggettivo al soggetto che gode di protezione da parte dell'ordinamento, non vuole invece attribuire a quest'ultimo un potere di scelta fra il diritto soggettivo e la situazione preesistente rispetto all'avverarsi della condizione. Tuttavia vi sono delle situazioni in cui invece la giurisprudenza ammette che il soggetto nel cui interesse la condizione è posta, possa poi rinunciarvi nel momento in cui tale condizione si avvera, trattando il contratto come puro, cioè è appunto il caso della condizione unilaterale. Il problema è che probabilmente questa impostazione, che sicuramente contraddice quello che è la regola generale in tema di condizioni, è probabilmente figlia della tradizione legata alle condizioni risolutorie di tipo sanzionatorio. Perché in questo caso, trattandosi proprio di una risoluzione sanzionatoria, generalmente si consentiva il soggetto nel cui interesse essa era posta di rinunciarvi. Ad ogni modo, la condizione unilaterale crea ulteriori incertezze, nel senso che già la condizione di per sé pone incertezza nel traffico dei diritti e questa incertezza diventa tanto più grande se a una delle parti del contratto si attribuisce il diritto di rinunciare poi alla condizione che si è avverata. Ad ogni modo, le condizioni unilaterali pongono una serie di problematiche, perché innanzitutto ci si chiede se esse siano figlie di una situazione di interessi, cioè la condizione apposta solo nell'interesse di una parte, o se sia il prodotto di una volontà negoziale di tutte le parti. Ci si chiede se effettivamente questa rinuncia sia possibile e, nel caso, quale forma debba avere. Ora, per quanto riguarda la seconda questione, è ovvio che nel momento in cui l'ordinamento ammette la figura della condizione unilaterale, deve ammettere anche la sua rinuncia, altrimenti la condizione unilaterale non riuscirebbe a differenziarsi in alcun modo dalla condizione generica e quindi perderebbe di senso. E allora, il problema riguarda proprio la definizione di questa fattispecie, perché, secondo alcuni, l'avverarsi della condizione darebbe vita a un atto di disposizione, il quale a sua volta sarebbe sottoposto a condizione, per cui abbiamo la cosiddetta teoria della doppia condizione. Secondo altri, invece, l'avverarsi della condizione darebbe vita a un diritto d'opzione in capo al soggetto che, nel cui interesse, la condizione è stata posta. E sicuramente nel decennio che va dagli anni 90 al 2000 abbiamo avuto una serie di sentenze molto rilevanti sul punto, ma anche contraddittorie, perché inizialmente l'unilateralità della condizione era vista come una realtà oggettiva, dipendente dall'unilateralità dell'interesse in virtù del quale la condizione era stata posta, per cui si ammetteva una rinuncia anche tacita. Successivamente, però, in particolar modo dal 1992 abbiamo avuto una serie di sentenze contraddittorie, perché in un primo momento il carattere unilaterale della condizione è stato inteso comunque come il prodotto di una volontà delle parti, per cui la rinuncia avrebbe dovuto avere la stessa forma del contratto originario, del contratto di base. Successivamente si è tornati all'orientamento opposto. Poi, in un primo momento la Corte Suprema ha abbandonato la costruzione imperniata sulla rinuncia alla condizione e ha aderito all'idea dell'opzione, deducendone ancora una volta che l'esercizio del potere di rinuncia ha carattere negoziale, quindi si richiedono le forme previste per il contratto. In un secondo momento è stata di nuovo ammessa la rinuncia per comportamenti concludenti. Per quanto riguarda invece possibilità e liceità della condizione, naturalmente se l'evento dodotto in condizione è un evento certo, la condizione è inutile. Se invece l'evento è impossibile, la condizione rende nulla la promessa. La promessa è nulla anche nel caso di condizione illecita, dove per condizione illecita non si intende il fatto di dedurre in condizione un fatto illecito per contrarietà al buon costume o alle norme di legge, ma piuttosto la condizione è illecita quando essa dipende, quando sostanzialmente è illegale o immorale il far dipendere quel dato effetto da quel determinato fatto, per esempio ti pago 100 se commetti un atto illecito. Tuttavia la diffidenza nei confronti dell'autonomia contrattuale ha portato a tesi restrittive circa quello che può essere l'oggetto della condizione, e allora talunni ritengono che la condizione possa essere posta solo per tutelare un interesse proprio del contratto a cui la condizione si riferisce e non di un contratto collegato. In realtà la giurisprudenza ha negato questa tesi, perché dove opera l'autonomia contrattuale delle parti, una valutazione circa gli interessi compiuta dal giudice è possibile solo quando si è espressamente richiesto alla legge e non è questo il caso. In secondo luogo alcuni hanno ritenuto che non potesse essere dedotto in condizione l'adempimento del contratto, cioè che fosse nulla la condizione io adempio se tu adempi, e questo perché l'adempimento sarebbe un fatto certo, per cui la condizione sarebbe inutile. In realtà il fatto che l'adempimento non sia certo è testimoniato dall'esistenza di contenziosi e tribunali, e l'articolo 1333 ci dà proprio un esempio di adempimento dedotto in condizione di una promessa, per cui in realtà anche questa tesi è stata poi rigettata dalla giurisprudenza. Infine il legislatore non disciplina la condizione regolata in modo da durare all'infinito e la non dice nulla sulla durata della condizione che comporta una retroazione, anche se è ovvio che in quest'ultimo caso la durata non può essere eccessiva. Per quanto riguarda invece la condizione sospensiva meramente potestativa, l'articolo 1355 stabilisce che l'alienazione di un diritto e l'assunzione di un obbligo sono nulli se fatti dipendere appunto da una condizione sospensiva meramente potestativa, ossia da una condizione sospensiva che dipende dalla mera volontà dell'alienante o del debitore, dove per mera volontà si intende la volontà non subordinata a una perdita giuridica o a un altro sacrificio della controparte. Per esempio, se tutti gli effetti della vendita sono fatti dipendere dalla volontà del venditore o del compratore, non abbiamo una condizione meramente potestativa perché nel momento in cui il venditore opta dovrà rinunciare alla proprietà, quindi abbiamo un sacrificio, mentre se il compratore opta dovrà rinunciare ai soldi necessari per pagare il prezzo, per cui ancora una volta abbiamo un sacrificio duridico. In realtà però di recente la tendenza è proprio quella di parlare di condizione meramente potestativa ogni qualvolta si ha una condizione che dipende dalla mera volontà di una delle parti. In realtà questa definizione intesa come condizione in cui avverarsi dipende esclusivamente da una delle due parti, a prescindere dal fatto che vi sia un sacrificio giuridico o meno. In realtà appunto questa definizione non è corretta perché mentre l'articolo 1355 pone l'attenzione sul soggetto passivo, questa definizione sposta l'attenzione sul soggetto attivo. Inoltre l'articolo 1355 menziona esclusivamente la condizione sospensiva meramente potestativa e allora nel silenzio della legge alcuni ritengono che sia invece lecita la condizione risolutiva meramente potestativa. In realtà le conseguenze di questo tipo di condizione variano a seconda di quello che è il tipo di adempimento richiesto, ossia a seconda che oggetto del contratto sia una prestazione di fare, di dare o di sopportare. Per esempio un soggetto si obbliga a non fare concorrenza fino a quando non deciderà di fare concorrenza. In questo caso non si ha un obbligo, non si ha un debito, non si ha neppure una promessa, la condizione è inutile. Ma possiamo per esempio avere il caso in cui un soggetto si impegna a sopportare un determinato rumore finché non deciderà di opporsi a questo rumore. In questo caso sicuramente non abbiamo un contratto né un obbligo giuridico, ma la condizione e la promessa valgono consenso dell'avente diritto, il quale è sì revocabile, ma fino alla revoca produce effetti. In terzo luogo possiamo avere il caso di compravendita, nel quale il soggetto che aliena stabilisce che la cosa ritornerà sua se e quando vorrà, quindi viene dedotta in condizione una seconda alienazione e ciò è possibile fin tanto che questa condizione non vada a svuotare completamente di significato la prima alienazione. Inoltre l'articolo 1359 stabilisce che la condizione si intende avverata nel momento in cui il mancato avverarsi dell'evento dedotto in condizione dipende da un fatto del soggetto che ha un interesse contrario al suo avverarsi. In realtà però la portata dell'articolo 1359 è minore rispetto a quella che emerge dal suo tenore letterale, perché sicuramente questa disposizione non si applica per esempio nel caso in cui Tizio promette di dare 1000 euro a Caio nel caso in cui gli rubino la macchina e poi Tizio mette in fuga al ladro. Cioè sostanzialmente l'articolo 1359 non si applica a tutte quelle ipotesi in cui la condizione è volta a spostare il rischio da un soggetto a un altro o a dimostrare una capacità o un'abilità del promettente. Esso cioè si applica solo nel caso in cui le parti o una delle parti abbia alterato oggettivamente il gioco delle probabilità su cui si fonda il contratto e sulla base del quale viene calcolato il valore delle prestazioni pattuite. In pendenza poi della condizione, se si tratta di condizione sospensiva, il titolare del diritto può compiere atti conservativi. Se invece si tratta di condizione risolutiva, l'acquirente può esercitare il diritto, l'alienante può compiere atti conservativi. L'articolo 1358 poi introduce una clausola generale, ovvero stabilisce che in pendenza della condizione le parti devono comportarsi secondo buona fede. Quindi riprende in realtà quanto già disposto dall'articolo 1359, ma con una clausola generale. Nel senso che nel momento in cui il 1359 afferma che la condizione si intende avverata quando il suo avverarsi è impedito dalla parte che ha interesse contrario all'avverarsi della condizione, già richiede comunque alle parti di comportarsi secondo buona fede. Semplicemente l'articolo 1358 riprende questo dovere con una clausola generale che riguarda non solo i comportamenti passivi ma anche i comportamenti attivi. E questa clausola generale diventa rilevante soprattutto nell'ambito dei provvedimenti amministrativi richiesti nell'interesse di una sola delle due parti, perché spesso in questi casi la parte che richiede il provvedimento amministrativo tende a prolungare i tempi proprio per speculare sull'andamento del mercato. E questa attività è lecita solo nel caso in cui le parti abbiano inteso attribuire a una di esse un diritto d'opzione, non invece al di fuori di questa ipotesi. La clausola penale è la clausola in virtù della quale in caso di inadempimento o di ritardo uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione e adesso presenta un effetto tipico e un effetto naturale. L'effetto tipico è quello per cui la clausola penale è dovuta anche in caso di assenza di danno, nel senso che il creditore non è tenuto a dimostrare l'esistenza del danno e se il debitore dimostra che il danno non esiste la penale è comunque dovuta. L'effetto naturale è invece quello di limitare il risarcimento del danno. Perché è naturale? Perché le parti possono anche disporre diversamente, prevedendo la risarcibilità del danno ulteriore. Peraltro se la penale per l'inadempimento non si può chiedere insieme l'adempimento e la prestazione, mentre questo è la penale, mentre ciò è ovviamente possibile nel caso in cui la penale sia per il ritardo. In entrambi i casi però la penale può essere diminuita a seconda equità dal giudice. Connotato però della clausola penale è proprio la relazione con l'inadempimento o il ritardo imputabile al debitore, nel senso che il presupposto, il requisito necessario e sufficiente perché la penale sia dovuta, è che vi sia appunto un inadempimento o un ritardo imputabile al debitore a prescindere dal danno. Se il debitore prova che il ritardo o l'inadempimento non sono a lui imputabili, non sarà tenuto al pagamento della penale. Esiste peraltro una clausola che impone al debitore una prestazione anche quando ritardo in adempimento non siano a lui imputabili, ma non è una clausola penale, è una clausola di assunzione del rischio. Generalmente peraltro la prestazione che è oggetto della penale è il pagamento di una somma di denaro, ma in realtà essa può avere ad oggetto qualsiasi prestazione purché si tratti di diritti disponibili. Inoltre abbiamo detto che le parti possono prevedere anche la risarcibilità del danno ulteriore oppure possono limitare il risarcimento solo ad alcune poste del danno e non ad altre. La giurisprudenza inoltre ritiene che la clausola penale non sia una clausola vessatoria proprio perché esso fornisce una miglior tutela per il debitore il quale sa già a priori a quale risarcimento andrà incontro in caso di ritardo o in caso di inadempimento e limita molto spesso il valore di questo risarcimento. Tuttavia essa potrebbe anche essere considerata in realtà vessatoria innanzitutto perché limita le eccezioni che possono essere opposte in giudizio, non si può far valere come eccezione l'inesistenza del danno e poi perché è limitativa della responsabilità del debitore. Peraltro come abbiamo detto la clausola penale può essere prevista, può prevedere o meno la risarcibilità del danno ulteriore. Nel caso in cui le parti prevedano la risarcibilità del danno ulteriore si crea però una contraddizione perché? Perché per il pagamento della penale non è richiesta la prova del danno ma per il risarcimento del danno ulteriore è richiesta la prova dello stesso danno ulteriore. Allora ci si chiede come questa contraddizione possa essere risolta. Semplicemente questo significa che se il creditore stragiudizialmente ottiene il pagamento di 1000 a titolo di penale e successivamente in giudizio fa valere il danno ulteriore, se questo danno ulteriore vale per esempio 1500 egli otterrà 500, cioè la differenza fra il danno ulteriore e la penale. Se invece il danno ulteriore è inferiore rispetto alla penale allora il creditore non dovrà renunciare a nulla, semplicemente tratterrà l'importo della penale. Tuttavia la penale deve essere fatta valere in giudizio dalle parti, cioè non può essere applicata ad ufficio. Nell'altra parte però le parti possono invece anche escludere la risarcibilità del danno ulteriore e in questo caso il creditore non può chiedere risarcimento integrale proprio perché la funzione della penale è quella di limitare la responsabilità del debitore. Ma nonostante questo in genere essa non coincide con una clausola limitativa della responsabilità. Perché? Perché nel momento in cui l'ammontare previsto a titolo di penale è un ammontare equo non si ha un'illusione della norma di legge, non si mira a escludere in realtà la responsabilità del debitore. L'illusione della legge, quindi la frode della legge, si ha solamente quando l'ammontare previsto a titolo di penale è irrisorio per cui sostanzialmente si esclude la responsabilità del debitore. Inoltre come abbiamo detto la penale può essere prevista per il ritardo o per l'inadempimento. Nel caso in cui la penale sia prevista per l'inadempimento il creditore può scegliere tra la penale e l'adempimento. Ovviamente non potrà chiedere entrambe, ma se il creditore sceglie l'adempimento il debitore non può poi liberarsi offrendo la penale. Inoltre la penale per l'inadempimento può essere richiesta all'interno dell'azione di risoluzione o a prescindere da quest'ultima. Ci si chiede invece se l'azione di adempimento precluda poi la richiesta della penale per l'inadempimento e la risposta è negativa. Nel senso che come sappiamo nel corso dell'azione di adempimento l'attore può anche scegliere poi di chiedere la risoluzione e nel corso del giudizio di risoluzione può chiedersi la penale per l'inadempimento. Perciò tanto vale ammettere che anche nel corso dell'azione di adempimento l'attore potrà però poi cambiare idea e chiedere anche la penale per l'inadempimento. Se la penale è per l'inadempimento non può essere chiesta in caso di ritardo. Il caso contrario invece è dubbio ma la risposta è prevalentemente affermativa. L'altro caso è invece quella in cui la penale sia prevista per il ritardo. Essa ovviamente è compatibile poi con l'azione di adempimento ed è compatibile anche con la risoluzione per il caso in cui sia prevista una clausola espressa o per il caso in cui il ritardo si ecceda alla normale tollerabilità. Se il ritardo segue l'inadempimento e per lo stesso contratto è prevista sia una penale per il ritardo che una penale per l'inadempimento il creditore potrà chiedere entrambe. Se si tratta invece di contratto di durata il creditore potrà chiedere la penale per il passato e l'adempimento per il futuro. Nei contratti di appalto peraltro spesso si prevedono delle penali intermedie cioè per singole frazioni diciamo dell'opera complessiva. La penale peraltro non è equa per il semplice fatto di essere stata convenuta, di essere stata stabilita dalle parti. Anzi l'articolo 1384 stabilisce che la penale può essere ridotta ad equità dal giudice. Peraltro si tratta di una disposizione di carattere eccezionale proprio perché va a modificare una pattuizione che è frutto dell'autonomia contrattuale delle parti e di conseguenza non è applicabile in via analogica. Inoltre lo scopo della disposizione è quello di riportare ad equità l'assetto contrattuale, le prestazioni contrattuali e non invece quello di tutelare il debitore. Perciò una rinuncia preventiva del debitore non è valida. In passato inoltre si riteneva che la riduzione ad equità potesse operare solo su istanza di parte mentre oggi si ammette un potere d'ufficio del giudice il quale però può essere esercitato solo se tutti gli atti necessari sono già stati allegati in giudizio proprio perché il giudice non è fornito di un corrispondente potere di ottenere e ricercare il necessario materiale probatorio. Inoltre perché vi possa essere l'intervento del giudice sono necessarie due condizioni alternative, ossia la prestazione è stata parzialmente adempiuta oppure l'importo della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo in entrambi i casi all'interesse del creditore all'adempimento nel momento della conclusione del contratto e non invece avendo riguardo al danno o al valore dell'adempimento stesso. Accanto alla clausola penale come contenuto speciale del contratto possiamo poi avere la caparra confirmatoria, ovvero accade spesso che al momento della conclusione del contratto una parte versi all'altra una somma di denaro o consegni beni mobili fungibili e ciò può avvenire a vario titolo, può avvenire a titolo di anticipo, cioè come adempimento parziale anticipato, a titolo di garanzia per il risarcimento del danno e quindi come cauzione, può avvenire a titolo di caparra penitenziale, cioè come corrispettivo per il diritto di recesso di una delle parti o ancora a titolo di caparra confirmatoria. In particolare la caparra confirmatoria può avere varie funzioni perché se il contratto viene adempiuto la caparra confirmatoria ha funzione di anticipo per cui se versata dal debitore può essere trattenuta dal creditore altrimenti deve essere restituita. Se invece il contratto non è stato adempiuto, il creditore, cioè il contrarente fedele, può agire per avvie giudiziali o stragiudiziali. Se sceglie di agire in via stragiudiziale, egli potrà scegliere di trattenere la caparra a titolo di risarcimento del danno. Se invece egli sceglie di agire per avvie giudiziali, allora dovrà scegliere fra l'adempimento e l'esecuzione oppure la risoluzione e il risarcimento secondo le regole generali. In questi casi allora egli potrà trattenere la caparra fino alla sentenza a titolo di garanzia. In ogni caso la scelta è irrevocabile. In caso di dubbio poi fra caparra confirmatoria e caparra penitenziale si presume sempre che la caparra sia confirmatoria fino a prova contraria. La caparra confirmatoria ovviamente a natura reale, cioè si perfeziona con la consegna, e a natura accessoria, ovvero segue le vicende dell'obbligazione principale. L'oggetto della caparra confirmatoria può essere una somma di denaro, così come una quantità di cose fungibili, e in passato si riteneva che la caparra confirmatoria potesse accedere solo a un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguito. Oggi invece la si ammette anche per i contratti definitivi. Per quanto riguarda la disciplina, ovviamente perché la caparra confirmatoria possa operare, è innanzitutto richiesto che l'inadempimento non sia di scarsa importanza. Inoltre è escluso un intervento del giudice volto a ridurne la montare in via equitativa, cioè è esclusa un'applicazione analogica dell'articolo 1384, anche se in passato la consulta ha cercato di fondare l'intervento riduttivo del giudice su una diversa argomentazione, ma sostanzialmente questa tese è stata poi esclusa. Il legislatore del 1942 disciplina poi la rappresentanza separatamente rispetto al mandato e partendo da un'ipotesi tipica che è l'ipotesi dell'articolo 1388, ossia il caso di un soggetto, il rappresentante, che agisce in nome e nell'interesse di un altro soggetto, il rappresentato, in modo tale che gli effetti del contratto si producano direttamente in capo a quest'ultimo. Quindi l'elemento che caratterizza la rappresentanza risiede proprio in quest'ultimo aspetto, cioè nel fatto che il contratto rappresentativo produce i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Ma questo elemento può in realtà ritrovarsi anche in fattispecie che nominalmente non sono qualificate come rappresentanza, ma che quindi sarebbero suscettibili dell'applicazione della relativa disciplina. È il caso per esempio del gestore che agisce non solo nell'interesse ma anche nel nome altrui, è il caso del mandatario che acquista un bene mobile, in questo caso l'atto di acquisto produce i suoi effetti direttamente in capo al mandante, ma è anche il caso del rappresentante che agisce in assenza di poteri, dove questa carenza di poteri non è conosciuta dal terzo, oppure quando vi sia un principio di apparenza creato dal dominus o ancora quando è rappresentato ratifichi il contratto e per il caso in cui vi fosse conflitto di interessi non conosciuto o non conoscibile dal terzo contraente. Ad ogni modo, partendo dall'ipotesi tipica di rappresentanza, possono descriversi quelli che sono i tre requisiti cardine, ossia innanzitutto l'agire in nome altrui, cioè la spendita del nome del rappresentato da parte del rappresentante, che generalmente avviene al momento di conclusione del contratto. Quindi l'agire nell'interesse altrui e infine nei limiti dei poteri conferiti al rappresentante dal rappresentato e qui si tratta ovviamente di una questione di volontà, cioè sono le parti che definiscono quelli che sono i limiti del potere di rappresentanza. La rappresentanza opera peraltro solamente nell'ambito dei contratti e dei negozi unilaterali fra vivi, non invece per quanto riguarda il testamento e per i negozi di diritto di famiglia e comunque anche nell'ambito dei contratti è esclusa per quanto riguarda la donazione. Per quanto riguarda invece il modo di conferimento, modifica e revoca dei poteri di rappresentanza, gli articoli 1392 e 1396 parlano della Procura. In realtà la Procura non è l'unica fonte dei poteri di rappresentanza, come è dimostrato dall'esistenza di contratti che hanno il potere di rappresentanza come naturale negozi, oppure che presentano una forma tipica con rappresentanza in una forma tipica senza rappresentanza, a prescindere appunto dalla presenza o meno di una determinata causa, clausola. Ad ogni modo per quanto riguarda la Procura, essa altro non è che un atto unilaterale recettizio che vede come proprio destinatario il rappresentante, peraltro perché la Procura produca i suoi effetti non è necessario che il rappresentante riceva l'originale del documento ma è sufficiente anche una copia e il terzo sarà poi informato dei poteri di rappresentanza attraverso la spinta del nome, nonostante egli possa comunque chiedere fino al momento della conclusione del contratto la prova dei poteri di rappresentanza appunto al rappresentante. Per quanto riguarda la forma della Procura, essa deve avere la stessa forma richiesta per il contratto rappresentativo, sia che si tratti di forma ad substantiam, sia che si tratti di forma ad probazionem. Se invece la legge non chiede una forma particolare ma questa forma è stabilita dalle parti, la Procura può essere anche informale e se la forma del contratto rappresentativo è libera può aversi anche Procura tacita. Per quanto riguarda l'onere della prova, è il terzo contraente che ha l'onere di dimostrare che gli effetti del contratto si producono in capo al rappresentato, mentre nell'ambito del giudizio di esecuzione sarà il rappresentante a dover dimostrare che tenuto all'esecuzione non è lui ma appunto il rappresentato. Infine per quanto riguarda i limiti dei poteri di rappresentanza, come abbiamo detto si tratta di una questione di volontà, cioè tali limiti sono stabiliti dalle parti e ovviamente in particolare dal rappresentato. Revoca o modifica del potere di rappresentanza sono ancora una volta atti unilaterali recettizi che hanno quindi come destinatario il rappresentante e per i quali però non sono richiesti particolari requisiti di forma. Modificazioni revoca non sono però efficaci nei confronti dei terzi se non vengono portati a loro conoscenza con mezzi idonei, a meno che si dimostri che il terzo contraente ne era comunque a conoscenza e ciò vale per la Procura generale o comunque per la Procura ad amministrare parte del patrimonio, non invece per la Procura per lo specifico atto perché in questo caso la Procura perde efficacia anche nei confronti dei terzi quando questo atto viene compiuto. Peraltro se si ammette anche la revoca tacita nel caso in cui il rappresentato compia egli stesso l'atto per cui la Procura è conferita o nel caso in cui per quello stesso atto conceda la Procura a un altro rappresentante e al di fuori però di queste ipotesi invece non sono previste particolari formalità per la comunicazione ai terzi. Ovviamente però la revoca o la modifica non sono loro opponibili se le hanno ignorate senza loro colpa e questo vale anche nel caso di estinzione della Procura per morte del rappresentato. Peraltro c'è stato i propri poteri il rappresentante tenuto a restituire il documento originale di Procura al rappresentato. In realtà però vi sono delle situazioni nelle quali la Procura è concessa non nell'interesse del rappresentato ma nell'interesse del rappresentante o di terzi. Qui allora la Procura può estinguersi solo per giusta causa e non invece per morte sopravvenuta incapacità o fallimento del rappresentato. Vi sono però dei casi nei quali il rappresentante agisce senza poteri perché crede appunto di avere poteri quando in realtà non li ha più o meglio perché era dotato di poteri ma li ha persi prima di concludere il contratto oppure perché questi poteri non gli sono mai stati conferiti per esempio perché la Procura è invalida o perché il rappresentato non aveva il potere di conferirgli appunto la rappresentanza. In tutti questi casi si parla di difetto di rappresentanza che è equiparato all'eccesso di rappresentanza ossia il caso in cui al rappresentante sono effettivamente conferiti dei poteri ma il negozio da lui concluso eccede questi poteri. Diverso è invece il caso dell'abuso di rappresentanza cioè quando il rappresentante agisce in conflitto di interessi rispetto al rappresentato. Tuttavia vi sono poi invece delle situazioni nelle quali nonostante il rappresentante sia in realtà privo dei poteri il contratto è comunque efficace proprio perché si è creata una situazione di apparenza imputabile al rappresentato e qui allora si ha appunto la rappresentanza apparente. Peraltro nel caso in cui appunto il contratto rappresentativo sia concluso in presenza di un difetto di eccesso di rappresentanza esso è sicuramente inefficace infatti non potrà produrre effetti tra il terzo contraente e il rappresentato perché appunto il rappresentante non era dotato dei poteri di rappresentanza e non potrà produrre effetti tra il terzo contraente e il rappresentante per il semplice fatto che quest'ultimo non ha speso il proprio nome ma il nome del rappresentato. Tutto ciò salvo il caso in cui il rappresentato scelga di ratificare il contratto. Prima della ratifica però il terzo contraente e il falso rappresentante possono accordarsi per il suo scioglimento e questo non tanto per tutelare il mutuo recesso quanto piuttosto per evitare che a seguito della ratifica il terzo contraente scelga poi di recedere unilateralmente. Tuttavia il terzo contraente deve essere tutelato nel senso che la ratifica deve intervenire in tempi brevi sia comunque per un'esigenza di certezza del diritto sia comunque per garantire che il terzo contraente non resti per lungo tempo ad attendere una possibile decisione del rappresentato e allora il terzo contraente ha la facoltà di interpellare il rappresentato stesso. Rappresentato che però è l'arbitro della vicenda perché egli potrà scegliere di agire in giudizio per far dichiarare inefficace il contratto, in questo caso egli è l'unico legittimato attivo, potrà restare inerme e allora se si ha l'interpello da parte del terzo contraente scaduto il termine previsto il silenzio del rappresentato è considerato come una dichiarazione di inefficacia del contratto. In terzo luogo il rappresentato potrà scegliere di ratificare il contratto. La ratifica è ovviamente un atto unilaterale recettizio che ha però come destinatario il terzo contraente o quantomeno deve essere lui comunicata e si può avere anche ratifica parziale. Ovviamente la ratifica è però necessario che il rappresentato abbia comunque conoscenza del contenuto del contratto rappresentativo. La ratifica deve avere ovviamente la stessa forma del contratto rappresentativo, se però per quest'ultimo è prevista la forma libera allora la ratifica potrà essere anche tacita. La ratifica ha ovviamente effetto retrattivo, quindi conferisce al rappresentante ex post ma con efficacia ex tunc i poteri di rappresentanza. Questo significa che la ratifica non va a sanare eventuali vizi del consenso o della volontà presenti al momento della conclusione del contratto, però rende irrilevanti eventuali vizi insorti successivamente. Nonostante poi la ratifica abbia efficacia retroattiva sono però fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi, dove per terzi però ovviamente non si intende il terzo contraente né i suoi eredi. Sono invece sicuramente terzi gli aventi causa del rappresentato in data anteriore alla ratifica, mentre è dubbio se possono considerarsi terzi gli aventi causa del terzo contraente con data anteriore alla ratifica ma successiva alla conclusione del contratto. Qui però la tesi prevalente è quella negativa. Nel caso in cui però il rappresentato scelga di non ratificare il contratto, il terzo contraente potrà chiedere il risarcimento del danno al falso rappresentante in virtù di una responsabilità precontrattuale. Perché però si possa avere risarcimento del danno sono richiesti tre requisiti. Innanzitutto il terzo contraente deve aver ignorato senza colpa il difetto o l'eccesso di rappresentanza e questa disposizione deve essere armonizzata con quella che consenta al terzo contraente di verificare al momento della conclusione del contratto l'esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al rappresentante, perché se ciò fosse sufficiente a escludere l'errore scusabile del terzo contraente allora sostanzialmente il risarcimento del danno non potrebbe mai essere concesso. In realtà bisogna ricordare che si tratta non di un dovere ma di una facoltà concessa al terzo contraente per cui il fatto che quest'ultimo non abbia chiesto prova dei poteri di rappresentanza non esclude necessariamente un risarcimento del danno. Lo esclude solo quando il terzo contraente si trovi di fronte come rappresentante una persona poco affidabile per cui con la dovuta diligenza egli avrebbe dovuto chiedere prova dei suoi poteri. In secondo luogo il terzo contraente deve aver interpellato il rappresentato perché egli scegliesse se ratificare o meno il contratto e infine si richiede che il rappresentante fosse consapevole o almeno avesse dovuto essere consapevole della carenza dei poteri di rappresentanza. A questo punto quindi possiamo dire che in caso di difetto di eccesso di rappresentanza la tutela concessa al terzo contraente è scarsa nel senso che egli potrà semplicemente accordarsi con il rappresentante per un eventuale scioglimento del contratto. In caso contrario salva la sua facoltà di interpello e dovrà attendere la decisione del rappresentato. Se il contratto viene ratificato quest'ultimo sarà efficace, in caso contrario se sussistono tutti i requisiti potrà ottenere il risarcimento del danno. La situazione muta però nel caso in cui il difetto di potere è dovuto alla modificazione o alla revoca o all'estinzione della procura e il terzo contraente ha senza sua colpa ignorato questi eventi. Allora il contratto rappresentativo è efficace. Peraltro poi la giurisprudenza ha esteso questa disposizione al virtù del principio di apparenza per cui il contratto è efficace nel caso in cui il terzo contraente non abbia conosciuto del difetto dell'eccesso di rappresentanza, quindi lo abbia ignorato senza sua colpa, in virtù di un principio di apparenza, di una situazione di apparenza imputabile al rappresentato, cioè il soggetto il cui nome è stato speso. E allora qui l'arbitro della situazione non è più il rappresentato ma è il terzo contraente il quale potrà scegliere se agire in giudizio per far valere l'inefficacia del contratto e quindi chiedere il risarcimento del danno al rappresentante o se agire in giudizio per far dichiarare invece l'efficacia del contratto. Tuttavia la portata di questa disposizione è limitata poi dalla specificazione delle ipotesi nelle quali l'errore del terzo contraente può essere considerato scusabile e il fatto è imputabile al rappresentato. Infatti l'errore del terzo contraente non è scusabile, quindi è inescusabile se la procura è stata conferita per iscritto, se egli avrebbe potuto evitare l'errore utilizzando la normale prudenza nella condotta degli affari oppure giovandosi degli strumenti legali di pubblicità. Invece l'errore è imputabile al rappresentato quando questo non si sia preoccupato di rendere noto ai terzi che sono intervenuti mutamenti rispetto al passato nei poteri di rappresentanza. Naturalmente perché possa essere concluso il contratto rappresentativo si richiede che il rappresentato sia capace e sia legittimato a compiere e a concludere quel determinato contratto, mentre per il rappresentante è sufficiente la capacità di intendere e di volere. Ovviamente il contratto è annullabile se sono presenti i vizi della volontà o del consenso riferibili al rappresentante, a meno che non si tratti di elementi del contratto che sono stati predeterminati dal rappresentato e allora rilevano i vizi della volontà e del consenso di cost'ultimo. Quando poi rileva lo stato soggettivo, in caso di mala fede del rappresentato non gli giova la buona fede del rappresentante. Se invece il rappresentato è in buona fede, su di lui si ripercuote la mala fede del rappresentante ma gli giova anche la buona fede di quest'ultimo. Peraltro un'ipotesi che frequentemente rende annullabile il contratto rappresentativo è quella del conflitto di interessi, cioè il caso in cui il rappresentante non agisce tutelando l'interesse del rappresentato ma in conflitto con l'interesse di quest'ultimo. In questo caso se il conflitto era conosciuto o comunque riconoscibile dal terzo, il contratto è annullabile. Legittimato all'impugnazione è esclusivamente il rappresentato, il quale può istituire un itis consorzio facoltativo con il rappresentante che però non è legittimato passivo poiché il contratto produce effetti esclusivamente fra il rappresentato e il terzo contraente. L'onere di provare che il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo ovviamente grava sul rappresentato e il termine di prescrizione equinquennale e decorre dal momento di conclusione del contratto. Tuttavia perché il contratto sia annullabile non è sufficiente l'esistenza del conflitto di interessi ma è necessario che tale conflitto di interessi abbia pregiudicato il rappresentato. Quindi ammesso che rilevi il carattere pregiudizievole è ovvio che la valutazione deve poi essere fatta ex ante, cioè con riferimento al momento di conclusione del contratto e non invece sulla base di quello che è l'andamento del mercato. Se però il rappresentante che si trova in conflitto di interessi evita che ciò pregiudichi il rappresentato, il contratto non è annullabile, il che va a complicare l'onere della prova perché il rappresentato ha l'onere di provare l'esistenza del conflitto di interessi. Grava invece sul rappresentante l'onere di dimostrare che questo non ha causato pregiudizio per il rappresentato e questo al fine di equilibrare due diverse esigenze. Da un lato quella comunque di non gravare con un onere della prova eccessiva il rappresentato, dall'altro quella di evitare che comunque il contratto concluso in presenza di conflitto di interessi sia sempre annullabile anche quando non pregiudizievole. Naturalmente l'annullamento è escluso quando vi è conflitto di interessi ma gli elementi del contratto sono stati predeterminati dal rappresentato. Inoltre l'annullamento è escluso quando il conflitto di interessi si è assorto successivamente al momento della conclusione del contratto oppure quando il conflitto di interessi esisteva prima della conclusione del contratto ma è venuto meno al momento in cui il contratto è stato concluso. Inoltre l'annullamento è escluso se il conflitto ha consentito comunque di contrarre a condizioni più favorevoli per il rappresentato, mentre il fatto che si siano stipulate condizioni sfavorevoli per il rappresentato non è prova necessaria del conflitto di interessi, è semplicemente un indice della sua esistenza. Tuttavia il contratto potrebbe comunque essere annullabile nel caso in cui il conflitto di interessi venuto meno prima della conclusione del contratto era in realtà esistente nella fase delle trattative. Un'ipotesi particolare di conflitto sia poi quando il rappresentante conclude il contratto improprio o come rappresentante di altri, cioè si parla del cosiddetto contratto concluso con se stesso. L'articolo 1387 afferma poi che il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o dall'interessato, quindi nel primo caso abbiamo la rappresentanza legale, nel secondo caso la rappresentanza volontaria, le quali differiscono innanzitutto per il fatto che nel caso della rappresentanza legale i poteri sono conferiti direttamente dalla legge e nel secondo caso invece dall'interessato attraverso generalmente la procura. Questo rende quindi la disciplina della rappresentanza volontaria solo parzialmente applicabile alla rappresentanza legale perché sicuramente anche per la rappresentanza legale opera il principio per cui gli effetti del contratto si producono direttamente in capo al rappresentato. Tuttavia per esempio è esclusivo dalla rappresentanza volontaria il principio per cui la procura deve rivestire la stessa forma del contratto rappresentativo, così come è inapplicabile alla rappresentanza legale il principio che pone a carico del rappresentato che modifica o revoca la procura un onere di comunicazione, così come non opera il principio di apparenza proprio perché non si può rendere valido il contratto rappresentativo in virtù di un fatto imputabile a un soggetto incapace. Anche nella rappresentanza legale invece il terzo contraente può chiedere la prova dei poteri di rappresentanza e il contratto concluso dal falso rappresentante può essere ratificato o dal vero rappresentante legale oppure dal rappresentato quando si è cessata la causa di incapacità. Sono poi applicabili invece il principio per cui rilevano i vizi della volontà del rappresentante non invece i vizi della volontà del rappresentato in quanto appunto incapace. Si ha contratto per persona da nominare quando al momento di concludere il contratto una parte si riserva di nominare, di dichiarare quale sia il soggetto che acquisirà i diritti e i doveri nascenti dal contratto. Secondo l'articolo 1401, quindi se il contraente che si è riservato, cioè il cosiddetto stipulante, fa la dichiarazione di nomina e questa è valida, i diritti e i doveri nascenti dal contratto si produrranno in capo a un soggetto terzo detto, detto e detto con efficacia ex tung. In caso contrario il contratto produrrà i propri effetti fra i contraenti originali, cioè fra il promettente e lo stipulante. Tuttavia perché la dichiarazione di nomina sia valida deve essere assistita da una procura antecedente oppure da una dichiarazione di accettazione da parte del terzo. Il contratto per persona da nominare può aversi per varie cause, può accadere per esempio che vi sia una procura antecedente ma il soggetto non voglia per il momento far sapere della sussistenza del potere di rappresentanza o può accadere che lo stipulante ritenga confini nel fatto di trovare un terzo soggetto in capo al quale far produrre diritti e doveri nascenti dal contratto. Tuttavia ci si chiede se nel caso in cui non vi sia dichiarazione di nomina o comunque questa non sia valida, gli effetti del contratto si producano in capo alle parti originarie, dallo scadere del termine per la dichiarazione di nomina o dal momento della conclusione del contratto. Ma la soluzione preferibile sembra essere la seconda, stante il fatto che anche per quanto riguarda il terzo, diritti e doveri nascenti dal contratto si producono in capo a quest'ultimo con efficacia ex tunc, cioè appunto dal momento di conclusione del contratto. Tuttavia per il contratto per persona da nominare sono previste alcune limitazioni perché innanzitutto esso può aversi solamente se vi è fungibilità tra le parti contrattuali, cioè se è indifferente che il contratto produca i suoi effetti con riguardo a un soggetto piuttosto che a un altro. Quindi non si può avere contratto per persona da nominare quando la legge dà rilevanza alla personalità di una delle parti. Se invece vi è rilevanza della personalità di una delle parti ma il giudizio su questa rilevanza è rimesso al promittente può comunque aversi contratto per persona da nominare. In secondo luogo deve trattarsi di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguito. Può peraltro indistintamente trattarsi di un contratto a effetti reali o di un contratto a effetti obbligatori così come di un contratto preliminare o di un contratto definitivo. Non è invece contratto per persona da nominare il contratto per conto di chi spetta, ossia il contratto in cui chi agisce agisce in nome per conto altrui per cui non diventerà mai parte del contratto. La dichiarazione di nomina per produrre effetto deve essere preceduta da una procura antecedente oppure vi deve essere una dichiarazione di accettazione da parte del terzo. La dichiarazione di accettazione dovrebbe essere contestuale rispetto a quella di nomina o comunque deve intervenire entro il termine fissato per la nomina stessa. Lo stipulante peraltro può nominare anche più soggetti e la forma della dichiarazione di nomina della procura e della dichiarazione di accettazione deve essere la medesima del contratto a cui si fa riferimento anche se si tratta di contratto informale. Peraltro il termine previsto dalla legge per la dichiarazione di nomina è di tre giorni, però le parti possono pattuire un termine differente purché sia certo e determinato. Quindi, concluso il contratto, se lo stipulante effettua una valida dichiarazione di nomina entro il termine prestabilito, il contratto produce i suoi effetti in capo al terzo, cioè in capo al soggetto eletto, se quest'ultimo accetta ovviamente la dichiarazione di nomina. In caso contrario, il contratto produrrà i suoi effetti fra le parti originarie. Si ha invece contratto a favore di terzi quando le parti, negoziando il nome proprio, convengono che un terzo acquisti un diritto. Deve trattarsi di un vero e proprio diritto, non di un obbligo né di un semplice vantaggio economico. A questo punto il contratto è efficace, il terzo acquista il diritto, salvo il potere di revoca dello stipulante. Tuttavia, il contratto, la promessa diviene irrevocabile, la stipulazione diviene irrevocabile nel momento in cui il terzo accetta di profittare del contratto, quindi del diritto. Perché il terzo viene qualificato non come parte contrattuale ma appunto come terzo? Perché egli in realtà al momento della conclusione del contratto non esprime un proprio consenso e dunque una propria volontà. Si richiede però che vi sia un interesse dello stipulante e allora ci si chiede in cosa consista questo interesse. Quindi, secondo una prima ricostruzione dottrinale, l'interesse dello stipulante sarebbe l'interesse di quell'articolo 1174, cioè la prestazione oggetto del contratto deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore. Secondo invece un altro orientamento dottrinale, tale interesse sarebbe l'interesse meritevole di tutela che la legge pone come limite per l'autonomia contrattuale. Il problema è che entrambe queste ricostruzioni non aggiungono nulla di nuovo, cioè in questo modo l'articolo 1411, che disciplina appunto il contratto a favore di terzo, andrebbe semplicemente a riprendere e ripetere quanto già stabilito da norme di carattere generale. E allora possiamo analizzare più specificamente in quali casi sussiste l'interesse dello stipulante. Esso sussiste sicuramente quando il suo interesse corrisponde con l'interesse del terzo alla prestazione, ossia quando sostanzialmente si ha il socio che stipula per la società, l'associazione che stipula per l'associato, eccetera. In secondo luogo l'interesse è chiaro quando la prestazione del promittente libera lo stipulante, per esempio il caso in cui in precedenza lo stipulante aveva promesso la prestazione al terzo. In terzo luogo si ha interesse dello stipulante quando attraverso il contratto a favore di terzo egli acquista un diritto oppure una liberazione, per esempio il promittente darà una certa somma di denaro al terzo, la quale somma di denaro era stata invece promessa dallo stipulante al terzo a titolo di mutuo. E allora se l'interesse del creditore alla prestazione avesse solo carattere patrimoniale, queste ipotesi esaurirebbero gli spazi per il contratto a favore di terzo. In realtà la legge non distingue fra interesse patrimoniale e interesse morale, per cui l'interesse che anima lo stipulante può essere anche il semplice interesse di arricchire un terzo soggetto. Ovviamente poi accanto all'interesse dello stipulante il contratto deve presentare anche tutti i requisiti richiesti a un contratto di ordine generale, in particolar modo è la causa, se manca la causa il contratto è nullo. Tuttavia il rapporto che lega lo stipulante al terzo può anche essere un rapporto di carattere liberale, quindi sostanzialmente il contratto va ad integrare una donazione indiretta, ma non è richiesta alcuna formalità, perché? Perché invece è a titolo oneroso il rapporto che lega lo stipulante con il promittente. E questo ci fa capire come talvolta l'articolo 1411 permette di semplificare rispetto alle regole generali in tema di contratti. Per esempio è possibile che il terzo sia un soggetto che ancora deve venire ad esistenza, quindi per esempio il contratto a favore di una società costituenda, il che peraltro crea alcune problematiche, poiché ci si chiede in questo caso se nell'emore, nell'attesa che il terzo venga ad esistenza, il diritto o la prestazione sia acquisita dal sostitulante o se invece il diritto attenda a venire ad esistenza, in particolare quindi venga ad esistenza solo nel momento in cui sia venuto ad esistenza anche il terzo. Un altro problema riguarda invece il caso in cui l'obbligazione sia destinata ad un adempimento lontano nel tempo, per cui ci si chiede se in questo caso l'identificazione del terzo possa anche essere posticipata. E la risposta affermativa ci viene fornita dalla disciplina in tema di assicurazione sulla vita a favore del terzo, perché in questo caso si consente allo stipulante di disegnare il beneficiario in un momento successivo anche attraverso una dichiarazione testamentaria. Ora, la dichiarazione del terzo non è necessaria per la conclusione del contratto, quindi i vizi del suo consenso non saranno rilevanti. Ciò che il terzo acquista è un vero diritto e questo diritto è autonomo, nel senso che il terzo può autonomamente agire nei confronti del promettente per l'adempimento. Più complesso è invece il discorso che riguarda la risoluzione, perché il terzo innanzitutto non può interferire con il diritto dello stipulante attraverso una sua iniziativa perché non ne ha la disponibilità e in secondo luogo egli non ha l'interesse a far venire meno il controdebito dello stipulante nei confronti del promettente. Naturalmente l'acquisto del terzo fino alla sua accettazione è sottoposto a una duplice alea, ossia la revoca da parte dello stipulante e il rifiuto del terzo stesso. Quindi se lo stipulante revoca la stipulazione oppure il terzo rifiuta, la prestazione dovrà essere eseguita dal promettente nei confronti dello stipulante. La revoca è sicuramente un negozio unilaterale recettizio che deve essere indirizzata al promettente ed è infatti giusto che questi sappia a chi deve adempiere la prestazione. Tuttavia è anche corretto che il terzo sia informato del fatto che non riceverà più la prestazione, perciò dovrebbe piuttosto dirsi che la revoca deve essere indirizzata al terzo ma deve poi essere comunicata anche al promettente perché sia opponibile perché produca effetti nei confronti di quest'ultimo. Del pari il rifiuto è indirizzato allo stipulante ma deve essere poi notificato al promettente perché produca effetti nei confronti di quest'ultimo. Ovviamente la revoca e il rifiuto aumentano le incertezze nel traffico dei diritti, sicché per taluni tipi di contratti il potere di revoca e di rifiuto potrebbero essere limitati nel tempo o addirittura esclusi, il che però non accade per un grande numero di contratti il cui obiettivo, il cui scopo è proprio quello di attribuire allo stipulante un potere di disporre che sia il più duraturo possibile, cioè questo potere di disposizione della prestazione diventa proprio il reale oggetto del contratto e questo potere è tanto più importante quanto più sia duraturo nel tempo, tanto che spesso questo potere di disposizione si trasforma in un potere di disposizione per atti mortis causa e a queste ipotesi è dedicato l'articolo 1412, secondo cui se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, quest'ultimo può anche revocare il beneficio tramite disposizione testamentaria e se il terzo muore prima che la prestazione sia a lui adempiuta, tale prestazione dovrà essere resa agli eredi del terzo, a meno che lo stipulante non disponga diversamente tramite sempre disposizione testamentaria. Generalmente la conclusione del contratto è preceduta da una serie di attività, a volte a preannunciare la disponibilità a contrarre di una parte o a cercare di accaparrare